Cari amici, benvenuti alla piazzetta del combattimento di Lonato, caldissimo, saremo intorno ai 30 gradi questo meraviglioso sabato di luglio, metà luglio, ho incontrato una ragazza che arriva da Benevento pensate, arriva da Benevento per venire qua a festeggiare il suo addio nubilato io intanto volevo passeggiare e mostrare alla nostra amica di Benevento che non c'è solo la sala piazzetta, la sala del cantinone, la sala della galleria ma abbiamo qua numerevoli spazi come questo qua, un grandissimo giardino, voltati, voltati, voltati giustamente lei è voluta festeggiare un uomilato quel convento di Lonato, incredibile davvero e allora intanto conosciamo la meglio, ciao come ti chiami? Patrizia Ah Patrizia, vedo che sei veramente di Benevento Sì, di Benevento Ci sono mozzarella a Benevento? No No, non è? No Quelle sono di Caserta Ah, Caserta e Salerno E Salerno Allora tu, ho visto che dietro hai tutto il tuo pubblico, se mi fai una zoomata, c'è uno stadio? Posso dire che c'è il San Paolo, no? No, no C'è la scuola di Benevento? Sì, in Serie C stiamo In Serie C, ma si importa perché, scusami, vabbè, lasciamo stare Chiudiamo la parentesi, allora giustamente tu ti sposi con uno di Benevento? No, di Lecce Bene, mi fa piacere questo fatto qua perché giustamente dici, io l'Adriatico, giustamente, e voglio andare? Giù in Salerno Giù in Salerno che è? Non ho capito Sullo Ionio, Ionio di Ati Voi diciamo, ci siamo, ci siamo Benevento che in realtà poi si trova sul Tirreno No, perché noi siamo in messa a una valle veramente, non stiamo sul mare Ma loro mi hanno detto che Benevento sul mare l'hanno spostato, vero? Perché questa ragazza qua, incredibile, ma vero, fa la bagnina di Benevento Sì, e invece loro sono le? Le? Sì, buonanotte, spalmano la crema perché giustamente, non so se avete notato, io ho preso e mi sono abbronzato E allora, si vede, mamma mia, che, che, pensa, caro Dave, che se ci mettiamo insieme facciamo Nutella bianca e Nutella Claudia Claudia, sì, ecco, benissimo, allora per il momento io direi di chiudere il collegamento perché Secondo me questi bicchieri hanno fatto qualcosa di importante, vero? Ti sposi con? Con Alessandro Ando Il 26 settembre Au, au, ma au, ma sei sicura? Sì Va bene, guarda la telecamera e salutiamo e ringraziamo Ciao Per il momento dal commento di Lonato è tutto, ciao Andiamo a Benevento? Ciao, sì Quanti bicchieri hai bevuto? Uno, è il primo, sono appena arrivata, non sapevo niente Eh, meno male che sei al primo Non mi sono sconvolta Scusami, sì, è il primo, mi sa che questa ragazza Scusami, sì, è il primo ci è un applauso